ciao amici youtube bentornati in questo nuovo video, siamo in maratona, la maratona di Nathan, Nathan è arrivata quello abbiamo fatto finora è bellissimo stiamo amando tutto tantissimo abbiamo anche questo banner nuovo non lo sappiamo non lo sappiamo stiamo per scoprirlo io al 50 e 50 sono a pt1 quindi ce n'è ce n'è ce n'è di tempo e cose da aspettare e attendere per vedere come andrà comunque sono a pt1 50 e 50 da vincere molani da prendere costellazioni di cacina da fare prendo molani anche se lo perdo lo prendo e poi vediamo sul banner armi come va e anche perché qualcosina per chi vorrei tenere però stiamo a vedere comunque e poi vabbè ho anche qualche singola supermanente vediamo se le tiro quelle in realtà perché stiamo facendo una challenge in live oggi quindi magari me le tengo per la challenge comunque detto questo io vi auguro buona visione dopo le mie pull troverete anche quelle dei ragazzi che hanno pullato oggi in live e auguratemi buona fortuna e che l'anno di Nathan sia per me che per tutti voi possa essere un anno ricco di 50 e 50 vinti e di un solo pt sul banner armi va bene partiamo allora pt1 andiamo a pt11 4 stelle speriamo ci siano le cacine speriamo ci siano le cacine così almeno la costelliamo che c'è abbiamo lasci 0 di base gli altri però sono pull che non mi dispiacciono mai sapete io ho tanti staggitte da parte li tengo apposta per quando arriverà un personaggio mi piace tantissimo e vorrò costellare e non avrò abbastanza pull è una cosa che sto facendo dal 2021 quindi se ne vedete tanti staggitte da glitter è perché io tengo quotidianamente dal 2021 ne consumo soltanto una multi ogni tot quindi è per quello che ne vedete tanti però è dal 2021 ora è slasher anche a me però io sono fiduciosa perché mutile armi per me è multifortunata è sempre quella che richiama qualcosa di buono allora 11 andiamo a 21 4 stelle vediamo adesso abbiamo il 4 stelle del banner garantito uno dei tre per me è più difficile a questo giro perché c'è soltanto uno che vorrei di più che è cacina che devo costellare e quindi la probabilità che esca è bassa è solo 83% che è un po' bassina però come si dice never say never visto? never say never visto? molti delle armi molti fortunati infatti nella multi dopo è uscita cacina perfetto così almeno la c1 per dire che in questo banner cacina c'è ce l'abbiamo quindi c1 bene bene molto bene potevo uscire magari due singole prima per non dover fare un'altra multi intera però c1 di tutto rispetto bene 31 31 31 4 stelle vediamo se 4 stelle arriva leggermente prima ci deve essere l'ultima singola di nuovo magari doppio si potrebbe anche trovare carini ne escono anche tripli a volte ad alberto alcune volte escano anche quadrupli non è che anche io potrei trovarlo un pochino prima giusto 1 o 2 singole prima la dragon's vein oh all'ultima singola oh bello proprio bello 41 proprio proprio bello ok 4 stelle si proprio bello così a distanza proprio 10 singole luna ok abbiamo meno male abbiamo un po' ribilanciato una pull che non mi dispiace meglio delle armi le armi mi danno 2 star glitter almeno i personaggi me ne danno 5 a distanza di 2 singole meglio 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 così almeno c'è più probabilità che in fondo ce ne sia un'altra ok bene 51 madonna che anzi ragazzi tutte le volte e se già ci sei amore bellissima sei bellissima sei bellissima sei bellissima la più bella di tutti quelli di 4 stelle di fontena la più bella sei tu però t'ho fatto anche il cosper quindi piacere mi piace però è già ci sei vabbè una pull almeno prossimo è garantito del banner lei è adorabile ragazzi l'inette è bellissima l'inette mi piace proprio tanto se non fosse stata già ci sei sarebbe stata sicuramente una che se trovavo ero proprio contenta di averla trovata e invece vabbè ce l'ho già ci sei comunque una pull non ci lamentiamo e vabbè ragazzi molti da 8 butta via butta via molti da 8 ok 61 no se è doppio doppio ah no dicevi doppio 4 stelle no pensavo che mi chiamassi il doppio 5 stelle e dico quello al piti cioè il doppio lo accetto al piti prima non faccio non faccio la presuntuosa va bene a metà multima la cosa verificare accettiamo non troppo presuntuosi ok buono 71 ultima multi prima delle singolette non era preventivato non era preventivato non ha laggato non c'è stata nessuna animazione nuova secondo voi chi è uscito non è però una multiprima dai almeno si risparmia un po' secondo voi chi è uscito no se esce Jin è una presa per il culo ragazzi vi giuro vabbè dai messa è 62 vediamo 63 64 65 dai non ci credo non me la sto no pensate che l'hanno perso si una multi prima 65 dai sono contentissima non credevo dai che bello primo 50 e 50 di nato l'hanno vinto che siano tutti così per favore bello non molti prima troppo felice mi dispiace un po' per la faccina poverina abbandonata a se stessa però ok allora però sminchio questo no non lo accetto mi dispiace non mi importa vai ci stiamo emozionando 18 bello va bene ci siamo già rifatti due star glitter si fa veloce ci siamo già rifatti due due star glitter veloce 19 no guarda un attimo un collasso 20 perfetto ci siamo si parte siamo a un cioè se esce in 40 pool abbiamo sbancato ma non succederà mai comunque siamo a 20 si va a 30 22 è vero c'era 22 anni e mezzo però non ci ho creduto colpa mia qua non ci ho pensato c'era il 22 ok vabbè qua le armi per me è tutto uguale preferirei trovare qualche 4 stelle c6 a questo punto banner o se no 3 armi 4 5 datemene datemene e vi rifaccio le pure però ecco diciamo le armi a 4 stelle le ho tutte refanate 5 da veramente tanto tempo non ne ho ulteriori bisogni quindi queste proprio lasciano il tempo che trovano ok 40 c'è ho proprio rifanata 5 almeno 2 copie quindi ho almeno 10 copie per arma questa poi è terribile almeno le altre lo stringless si gioca il sacrificial si gioca la la favonius si gioca sono niente bene ovviamente però doppie vanno bene sono quasi una pull dammi anche la terza per favore me la faccio una pull si è il mio account Mirko si 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 ok 50 aiuto 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 vabbè che cazzo vabbè sacroso non commento che giornata complicata oggi mamma mia vabbè comunque vada è andata bene ragazzi si è risparmiato dai questo era 41 42 42 la risposta a tutto io ragazzi non so che dire non so che dire non so che dire grazie Natlan grazie grazie mille Natlan facciamo foto anche all'arma grazie grazie per il benvenuto ma io sono contenta ad esserci finalmente sono andata da Fontaine no scherzo però Fontaine l'ho odiata infatti bannerarmi è stato sto invece Natlan l'apprezzo molto bene così uguale per l'Arcon così uguale per l'Arcon 77 77 dai eccola eccola dai va bene va bene non ci ha fatto aspettare più di tanto eccola bellissima la splash art di lei che serva se te la senti bene possiamo andare io vado vai vai magari la 69 esce no ce l'abbiamo ce l'abbiamo dentro questa multi bene almeno si risparmia top vediamo allora questo era 59 60 61 62 63 64 65 66 l'ultima oh giusta vinta 67 vinta l'arma giusta mettiamo la musica giusta ragazzi per l'occasione perfetto ce l'abbiamo ce l'abbiamo cioè nel senso non mi lamenterei di aver trovato il 2 5 stelle solo 8 nel senso eh esatto allora se mi esce l'arma di molani non mi dispiace se non mi esce lo sprayer non mi dispiace ok abbiamo delle altre alternative ok oh eccola vai inizio multi questo era 63 bastava chiedere 64 66 66 niente vai cuore mio amore grazie si va dai niente animazione normale io ho cagato addosso ma scusatemi ragazzi eh c'è nemmeno il tempo di realizzare 30 andiamo a 40 oh allagato siiii siiii l'abbiamo trovata prima allagato siiii monna grazie per il fallo su tiktok rogo ce l'abbiamo 31 una ragazzi la multi la multi top dopo quella disperazione tragedia di prima quello schifo pure con cacina mio grazie mille dopo quest'accanto qui c'è il mio allora una cacina ma non è sola perché sappiamo cosa c'è dopo 32 comunque 33 34 35 36 37 38 no ragazzi non ci viene anche qua anche qua ragazzi 39 siiii eccola 39 di